Sei giorni delle rose 2017, è conclusa, i vincitori Morganeschi e Benjamin Tomacchi con me. Come ti sentite dopo questa grande vittoria? È sempre un grande sentimento di vincere qui. L'anno scorso erano secondi, dietro Viviani e Scartezini, quindi questo anno eravamo qui per la vittoria, quindi siamo molto felici di triunfare oggi. Come ti sentite dopo questa grande vittoria finale? Mi sentite molto bene. Non è facile, con tutti i ritori di UCI, c'era una grande vittoria ogni giorno, ma non eravamo nella migliore posizione prima della finale, perché il leader era forte ogni giorno. ma in fine abbiamo fatto molto, molto veloce le ultime vittorie, eravamo migliore del giorno prima, e finalmente siamo la vittoria. Gli ho chiesto come è stato ovviamente arrivare a questo grande finale, gli ho detto che la gara è stata molto difficile in tutti questi giorni. Loro non erano primi fino all'ultimissima gara, ma proprio l'ultima, con fatica, ma alla fine sono riusciti a prevalere e ad aggiudicarsi questa ventesima sei giorni delle rose di Fiorenzuola. Il pensiero finale e magari un ciao alle persone di Fiorenzuola. Sì, sì, e grazie a tutte le persone che venivano per i 6 giorni. È sempre una buona atmosfera qui. È solo i 6 giorni durante l'anno, tutti i 6 giorni durante l'interno, quindi c'è un'atmosfera speciale e Claudio e questa squadra hanno fatto un lavoro perfetto. Ha detto che l'atmosfera di Fiorenzuola è particolarmente speciale, grazie a Claudio Santi e tutto il suo team. È l'unica sei giorni di questo livello che si corre in estate, le altre di solito si corrono in inverno, e quindi è particolarmente bello essere qui. Il pensiero finale a chi ci ascolta. Oh, posso ripetere? Il pensiero finale a chi ci ascolta. Ah, ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti in italiano. Io ringrazio i vincitori della 6 giorni delle Rose 2017, Morgan Nevsky e Benjamin Tomar. Ringrazio voi che siete stati qui con noi. Appuntamento alla prossima edizione dal velodromatilio Pavesi. Ciao da Andrea Dossena.